Splende il sole sulla fiera antiquaria di marzo, banchi presenti e visitatori pure, gli oggetti in mostra sono sempre bellissimi e originali. In questo fine settimana torna anche con nuove location alla sezione vintage nel chiostro della biblioteca e nel giardino pensile della provincia. Circa una trentina di selezionati espositori di abbigliamento e accessori d'epoca provenienti da tutta Italia. Cerchiamo noi espositori di avere la qualità perché se no avremmo tanti falsi e poche cose veramente vintage, però chiaramente il vintage è molto caro e non è facile poterlo trovare. Quindi ci sono cose più o meno vecchie, più o meno vintage e si raccolgono fra noi oppure andando all'estero che allora lì ancora si trovano i grandi mercatini delle Pulci o altri mercatini. E per il weekend della fiera ingresso gratuito anche alla Casa Museo di Ivan Bruschi. Sarà possibile visitare la mostra realizzata in collaborazione con la Fondazione Alinari, la sottilità dell'area Arezzo e il suo territorio. Negli archivi Alinari, il territorio aretino a cavallo tra 800 e 900, mostra che visto il suo successo sarà prolungata fino a domenica 4 giugno. E ancora la mostra dedicata alle banconote della Shoah, storie di denaro nei campi di concentramento. Inoltre, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, il prossimo 8 marzo la Fondazione Ivan Bruschi offrirà a tutte le signore l'opportunità di visitare la Casa Museo ad un prezzo ridotto.